È una giornata felice, è una giornata che per me premia un riconoscimento che in un certo senso è dovuto, però sicuramente cercato, legato a un lavoro che in quegli anni c'è stato e secondo me è giusto che sia finita così. Sono stati anni impegnativi perché il fatto di essere nella scuola di specialità voleva dire non assumere altri impegni, comunque lavorare per un lavoro che è stato positivo, piacevole, cercato, voluto, amato sin dall'inizio, però come tutti gli amori doveva essere un po' esclusivo e in quel momento continuare a studiare senza remunerazione non era facile. Direi un rapporto positivo, molto leale e anche molto chiaro all'insegna della trasparenza. Io mi sono trovata molto bene, ho avuto comunque anche la possibilità attraverso Consulcesi di aggiornare i miei crediti, la cosa non è stata di poca importanza, quindi direi giudizio positivo. E' un impegno corale che arriva da più parti e come tutti i lavori di squadra poi porta un buon risultato, io ci credo, anche nell'ambito dello sport.